è ubriaco perso, proprio andato, completamente andato, ha bevuto due birre, due birre soltanto oh non ti pisciare sui piedi eh ma l'hai trovato? si si è qua 33 come viene un bicchiere? lo metto lì 33 no che cazzo lì 33 di 33 33 oh è finito? reggiti eh? reggiti eh? eh oh capom! non mi fai ubriacare! fai tutto da solo fai affanculo ah ma non per che non sei botto andando qui i pantaloni? perché sei grosso affanculo! ma c'è che cazzo sta scritto qua? eh qua c'è scritto dolby trainer che ho letto dolby santo eh perché tu ormai sei un tutt'uno con i tuoi poveri lavati le mani lavati le mani lavati le mani no hai fatto lo scrollo? eh? eh? ma asciugale però eh va si ce l'ho vedi le figure di merda eh di quale? devi tenere così non so non c'è ma c'è ma c'è ma c'è ma c'è ma dai ma dai come cazzo non so perché ma sono un cazzo come ha lasciato un cazzo? come ha lasciato un cazzo? dai a me va ci sono asciugato e di là c'è a me dai e completamente andro che cazzo sei facile pronto No, 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 no.